E' più volte di quanto immagini Beh, immagino che le tue misure non incontrassero troppo le aspettative della clientela Quel maledetto problemino Bene, basta per oggi Prenditi un giorno di ferie Grazie Nate Ehi Murphy, non venirmi a dire chi è che ha più i criminali in questo modo Credevo che il poliziotto dovessero essere in forma Vuoi dirmi perché mi hai portato fin quassù? So di averlo conquistato, lo so Voglio vederlo, mi serve il tuo aiuto Il mio aiuto? Ho il suo numero di carta di credito Devi solo andare a vedere nel computer Ti ci vuole poco, è il tuo departimento Non posso, io non sono un investigatore E legalmente non ho alcun diritto di andare a vedere cosa fa quel tizio Inoltre da quanto mi hai detto non ne ha neanche voglia Devo vederlo, Murphy Beh, ecco il tuo schiavo d'amore Tesoro, a quanto pare facevi parte nel suo piano di ricerca mensile Robert Stein Andiamo, Rosie Un conto è mettersi la mia divisa in camera da letto Nella macchina di polizia no però Non ci vedrà nessuno E poi il nostro signor cazzo al telefono Non ne potrà parlare in giro Se no la sua mogliettina scoprirà come ha passato le notti di quest'ultimo Non ci vedrà nessuno